George, non ti rispettano perché non hanno paura di te. Massacrane è un ogni pochi giorni, non è una scienza occulta. Due... A chi va? Il rene della signora Herman. Posso andare a vedere... Tre. Al signor Walling. È vero, io l'avevo dimenticato. Oh, l'avevi dimenticato. Come di scrivere le note prima delle visite. O di controllare i drenaggi del postoperatorio, di quell'occlusione intestinale. O di firmare le tue prescrizioni mediche, così ora le tue cartelle, cioè le mie cartelle, sono incomplete. L'hai dimenticato. Perché l'unica cosa su cui si concentra il tuo cervello di gallina è l'ora di pranzo. Gray diventerà un chirurgo. Mentre tu pulirai i fossi ai bordi delle strade. È brutale ma efficace.